Musica Tacche risonanze mai effettuate, una truffa da 150.000 euro, 6 agli arresti domiciliari a Napoli, coinvolti gli amministratori di centri di diagnostica, pazienti ignari, la denuncia è partita da un medico di base. Sono state avviate due indagini sul caso delle formiche nel letto di una donna ricoverata all'ospedale San Paolo di Napoli, una della procura e una interna all'ospedale. Abbigliamento contraffatto alla duchesca a Napoli, scattano i sequestri e una denuncia. Primo caldo, primi incendi, inizia la stagione dei roghi. L'allarme si cita in Italia per colpa di una primavera troppo calda e troppo asciutta, lo segnala la Col di Retti, partendo dal monitoraggio del livello delle acque del Po. Aspettando la Serie A, Mister Baroni e il Benevento resteranno ancora insieme. A Napoli l'attesa riunione tra il tecnico toscano, il DS di Somma e il presidente Vigorito. Nuovo appuntamento con l'informazione targata a Media TV, lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni. Una truffa da 150 mila euro, i cinque amministratori di sette centri di diagnostica convenzionati con sede nelle province di Napoli e Caserta e un medico di base ottenevano rimborsi per attacche e risonanze magnetiche mai effettuate. Sono stati arrestati insieme ad un impiegato amministrativo dell'Astra. Sentiamo. Ammonta a circa 150 mila euro il danno causato all'erario dal sistema truffaldino nel settore della sanità scoperto a Napoli nell'ambito di indagini coordinate dalla procura e svolte dai carabinieri. Lo rende noto il procuratore aggiunto della Repubblica, Alfonso Davino. Sono sei al momento le persone ora ai domiciliari, mentre la settima è ricercata. Le indagini sono partite nel settembre 2015 quando un medico di base denunciò che non era sua la firma sotto ad una ricetta medica inoltrata per il pagamento da parte di uno dei centri diagnostici ora finiti al centro dell'inchiesta. Gli ulteriori accertamenti, spiega Davino, hanno consentito di documentare una fiorente attività illecita e le sue modalità di svolgimento, riuscendo a ricostruire tutti i passaggi chiave della truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Snodo della vicenda l'appropriazione da parte di un dipendente amministrativo dell'Asla Napoli II di Ischia di circa 4.000 ricette mediche, denunziate come rubate ma in realtà attribuite informaticamente a medici ignari. Le ricette stesse, dopo l'appropriazione da parte del dipendente, secondo la ricostruzione fornita dal procuratore aggiunto, venivano poi immesse in un vero e proprio mercato illecito, destinato a consentire in debiti guadagni a strutture private convenzionate con corrispondente grave danno economico per il servizio sanitario. In un caso è emerso il diretto coinvolgimento di un medico di base compiacente che si sarebbe prestato a compilare, come già detto, 40 ricette false nell'arco di un mese, tra maggio e giugno 2015. Negli altri casi invece non è emerso il coinvolgimento di medici apparenti sottoscrittori delle ricette che però sono risultate tutte false nel loro contenuto ed emesse ad esclusivo beneficio dei centri diagnostici. Sono state avviate due indagini sul caso delle formiche nel letto di una donna ricoverata all'ospedale San Paolo di Napoli e una della procura su disposizione del procuratore facente funzioni Nunzo Fraiasso, l'altra interna. Lo ha annunciato il direttore sanitario dell'ospedale Vito Rago. Sentiamo. Un'indagine interna per attribuire quando vi fossero le dovute responsabilità è stata avviata nell'ospedale San Paolo a Napoli dopo le immagini di centinaia di formiche sul letto di una paziente. Lo annuncia il direttore sanitario dell'ospedale Vito Rago, che oggi tra l'altro è stato convocato in regione a seguito di una convocazione. Rago, che è DS del nosocomio, da soli 20 giorni intanto nell'ospedale del quartiere Fuorigrotta si attende l'arrivo della task force annunciata dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Sto cercando di fare in modo di debellare questo fenomeno che mi dicono duri da anni e non deve mai più ripetersi, ha aggiunto. Sul fronte della bonifica dei luoghi, Rago ha dichiarato che sono state messe in essere tutte le procedure necessarie dalla mia persona e da altri organi interni. Mi è stato riferito, contestualmente oggi alle 12 viene un'altra ditta che abbiamo incaricato ad Oras di procedere alla bonifica del verde, il verde pubblico di questo ospedale. Potatura degli alberi, gli alberi vanno potati, i prati vanno falciati, la struttura è pulita perché ho disposto pulizie approfondite già da due settimane e le stanno facendo, la struttura come struttura è pulita, però il verde esterno è in stato di abbandono e da oggi alle 12 iniziano i lavori. Certo che nel 2017... E lo so, è amato, è amato. Il Codagon si ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Napoli sul grave caso. Nello specifico l'associazione chiede alla procura di aprire un'indagine alla luce di possibili reati, di cui all'articolo 328 codice penale, reato di rifiuto di atti d'ufficio, reati di omesso controllo e vigilanza, reato contro la salute in violazione dell'articolo 32 della Costituzione, in osservanze delle norme in materia di sicurezza e di voler esperire nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile l'azione penale. Nuovi atti sono stati depositati dalla procura presso il Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli imprenditori Agnello e Raffaele Cesaro, fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro, coinvolti nell'inchiesta sulle infiltrazioni della Camorra nella gestione del PIP, piano di insediamento produttivo del comune di Marano, a nord di Napoli. L'udienza su richiesta dei legali dei Cesaro, gli avvocati Vincenzo Maiello, Raffaele Quaranta e Paolo Trofino è stata rinviata per consentire ai difensori di esaminare i verbali depositati dai PM della DDA, Mariella Di Mauro e Giuseppe Visone, titolari dell'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. Tra i nuovi elementi all'attenzione dei giudici, la testimonianza di una commercialista degli imprenditori che a quanto si è preso ha parlato di un incontro avvenuto in una zona di campagna tra i Cesaro e alcuni esponenti del clan Polverino Simeoli, durante il quale si sarebbe parlato della necessità di costituire una società controllata dal clan per la gestione del PIP. Abbigliamento contraffato alla Duchesca, Napoli scattano così i sequestri ed una denuncia. I dettagli. Tanti marchi illegalmente riprodotti, soprattutto sulle t-shirt, merce che gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato hanno scoperto nell'ambito di mirati controlli effettuati nella Duchesca. Ispezioni inerenti proprio al fenomeno della vendita di abbigliamento che hanno dato ancora una volta esito positivo. I poliziotti infatti, in particolare in Vico VII, hanno proceduto al sequestro di 344 capi di abbigliamento, in particolare Magliette, bloccato un cittadino tunisino di 59 anni che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di contraffazione e ricettazione in quanto detentore di un locale al cui interno verrà esposta la merce contraffatta in vendita. Insomma, la contraffazione come anche l'abusivismo continuano a rappresentare una concreta e pericolosa minaccia per l'economia sana della città di Napoli, in quanto colpiscono direttamente non solo i grandi marchi di fabbrica, ma anche il sistema distributivo rappresentato dal terziario che nell'area metropolitana costituisce una delle principali attività produttive. Anche i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno effettuato un altro intervento a tutela dei consumatori, ma nel capologo irpino. Sentiamo. Oltre 200.000 prodotti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino all'interno di un megastore gestito da cittadini cinesi in pieno centro città. Giocattoli, articoli da mare per bambini, ciambelle, canotti, braccioli, piscine gonfiabili, ma anche mollette per capelli e spazzole sono risultati privi del Marco C e delle altre indicazioni obbligatorie a garanzia della sicurezza del consumatore. Il valore della merce sequestrata è pari a 450.000 euro. Con questo ultimo sequestro, i militari della compagnia di Avellino in questo primo semestre del 2017 hanno tolto dagli scaffali dei negozi irpini più di un milione di articoli di vario genere e risultati pericolosi per gli utilizzatori, per un valore di mercato di più di 3 milioni di euro. I risultati ottenuti in questo settore di servizio si vanno a sommare agli altri interventi eseguiti in questi primi sei mesi nell'ambito del contrasto alla contraffazione del controllo economico del territorio. I risultati riassunti sono stati conseguiti nell'attuazione costante del più generale dispositivo di contrasto ai traffici illeciti voluto dal Comando Generale del Corpo e nell'attività di controllo del territorio, effettuato ogni giorno dalle pattuglie della Guardia di Finanza e sottolinea la profonda attenzione delle fiamme gialle alla tutela dell'economia, del commercio legale e della incolumità pubblica. Ha legato un capo della corda al ramo di un albero e poi si è stretto il cappio al collo lasciandosi cadere. Così si è tolto la vita un operaio edile di 40 anni, originario di Sant'Agata Irpina a Solofra. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato da alcuni passanti a poca distanza dallo slargo dell'area verde di località Scorza. Immediato è scattato l'allarme sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, sul corpo sono stati eseguiti i primi accertamenti, ancora poco chiare le cause alla base del gesto. I militari, questa volta della stazione di Montoro Inferiore, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un genitore che senza giustificato motivo non ha affatto frequentare l'anno scolastico appena trascorso alla propria figlia minorenne. Per questo motivo è scattata la denuncia. Botte e minacce all'anziana madre, allontanato il figlio di 48 anni, si tratta di un navellinese resosi responsabile di continui reiterati e maltrattamenti nei confronti della madre, così da cagionarle sofferenze psichiche e psicologiche. Furti di piccole auto, 17 arresti tra Roma e Napoli, indagine della procura denominata Car2Go. Sentiamo. Avrebbero fatto parte di un'organizzazione specializzata nei furti di vetture di piccola cilindrata. Con questa accusa, 18 persone sono state arrestate nelle province di Roma e Napoli, dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della capitale, come disposto dal GIP nell'ambito dell'indagine della procura denominata Car2Go. I militari dell'arma hanno scoperto che c'erano persone interessate ad acquistare veicoli rubati per rimetterli nel mercato dei pezzi di ricambio presenti a Roma o in quello napoletano, anche tramite siti online. E tra gli arrestati c'è anche un carabiniere già in servizio nella stazione di Casalpalocco. Al militare già trasferito ad altra sede e sospeso in maniera precauzionale, sono contestati i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e corruzione. L'uomo secondo il PM, Tiziana Cugini, avrebbe fornito notizie ai ladri di auto al fine di evitare controlli su dove erano collocate le pattuglie dei carabinieri. In cambio, avrebbe ricevuto droga e danaro. Le zone prese di mira dall'organizzazione erano prevalentemente quelle a ovest della capitale e quelle in prossimità dei parcheggi delle stazioni della metropolitana B e della Roma Lido. La banda colpiva a qualsiasi ora del giorno. Ancora una vittima della strada nel Matesino, ancora un dramma dall'IFE per la precisione in via Campisi sul tratto che conduce verso la frazione periferica di Totari. Ivan Valente, 32 anni, di piedi montematese, viaggiava a bordo di una Fiat 500 quando si è scontrato frontalmente con un camion, morendo sul colpo sul posto i mezzi di soccorso ai carabinieri per accertare la dinamica e l'avvenuto decesso. Pur di sfuggire alla furia del marito violento, si è gettata dall'auto in corsa in cui era con il coniuge rischiando di morire. Il fatto a Castelvolturno, vittima una donna di 34 anni che ha riportato fratture e contusioni mentre il marito di 41 anni di Villa d'Iterno è stato arrestato. Secondo quanto accertato dai militari della compagnia di Mondragone, l'uomo ha iniziato a pestare la moglie con un bastone nel corso di una lite scaturita per motivi riconducibili alla morbosa gelosia e rancori personali. E con il primo caldo iniziano i primi incendi e così inizia anche la stagione dei roghi. Sentiamo. Le temperature in questi giorni hanno superato i 30 gradi. Nei centri della provincia non è stato da meno. Giornate quasi estive che hanno popolato le spiagge della costa. Hanno visto i primi turisti della stagione e purtroppo anche i primi incendi. Primo caldo, primi roghi anche nelle zone interne della campania. I vigili del fuoco di Avellino negli ultimi giorni, complici appunto l'alzarsi delle temperature, sono stati impegnati in diversi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea. Lunedì 12 giugno in particolare i pompieri sono intervenuti in via a piano d'ardine del capoluogo perché le fiamme hanno interessato delle sterpaglie a ridosso di alcune aziende del posto. Grazie al pronto intervento di una squadra della sede centrale di via Zigarelli si è estinto l'incendio ed evitato che le fiamme coinvolgessero una tubazione del gas. Rischio incendi quindi sempre più inaguato con l'estate alle porte, mettere in sicurezza il patrimonio boschivo in tempi e modi giusti rimane l'unico obiettivo reale di una programmazione seria e concreta per tutelare ciò che la natura offre e a cui tutti siamo tenuti a rispettare. Ed è allarme in siccità in Italia per colpa di una primavera troppo calda e troppo asciutta. Lo segnala la Coldiretti partendo dal monitoraggio del livello delle acque del Po. Sentiamo. Coldiretti lancia l'allarme siccità nelle città e nelle campagne con le precipitazioni che sono in primavera quasi il 50% inferiori rispetto al periodo di riferimento dopo un inverno particolarmente asciutto con un deficit idrico del 48%. Situazione drammatica e a macchia di leopardo lungo tutta la penisola. I girasoli e il grano turco stanno seccando in Umbria ma in difficoltà sono anche ampie aree del Lazio dove è già scattata la turnazione su tutti gli impianti irrigui dell'agropontino. In Campania, nel Cilento e nella Piana del Sele ci sono problemi per gli ortaggi e la frutta ma anche per la mozzarella di bufala perché la mancanza di acqua mette in crisi anche gli allevamenti e caseifici mentre in Puglia perdite di produzione, aumento dei costi per le risemine, ulteriori lavorazioni, acquisti di nuove piantine e sementi sono gli effetti della siccità con gravi danni al Granario d'Italia nelle province di Foggia e Bari dove si riscontra una perdita del 50% della produzione. Gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l'uso razionale dell'acqua lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l'innovazione con culture meno idroesigenti ma non deve essere dimenticato che l'acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività all'interno settore alimentare. Occorrono quindi interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali creando bacini aziendali utilizzando le ex cave e le casse di espansione dei fiumi per raccogliere acqua. Siamo alla pagina sportiva. Il Chelsea ha già individuato il successore di Eden Hazard nel caso in cui il talentuoso belga andasse a Real Madrid visto che il presidente Florentino Perez ha promesso ai soci il suo acquisto in caso di rielezione. Si tratta, secondo quanto scrive il San di Lorenzo Insigne il cui nome è stato espressamente fatto dal tecnico dei campioni d'Inghilterra Antonio Conte. Per il Napoli, secondo quanto precisa il tabloid britannico sarebbero pronti 45 milioni di sterline pari a circa 51 milioni di euro mentre al giocatore verrebbero raddoppiati gli emolumenti che percepisce alla corte di De Laurentiis. Il giornale ricorda anche che Insigne costerebbe al Chelsea la metà di quanto il reale è disposto a pagare per Hazard 100 milioni di euro nel caso l'affare andasse in porto. Dopo i festeggiamenti arrivano i fatti. Mister Baroni e il Benevento resteranno ancora insieme a Napoli l'attesa riunione tra il tecnico toscano, il DS di Somma e il presidente Vigorito aspettando la Serie A. Una promozione storica, il Benevento si prepara per la nuova avventura in Serie A, la sua prima volta nel campionato di massima categoria. Da neopromossi, gli stregoni sono riusciti a qualificarsi ai play-off di Serie B, vincendoli poi in finale contro il Carpi. Una storia, una favola, un happy end, un sogno che tutti speravano da anni e che finalmente si è avverato. E ora, dopo i festeggiamenti e le due promozioni consecutive ottenute in questi anni, è tempo di programmazione e di progetti per il futuro. Il primo passo è stato fatto proprio nei confronti dell'artefice di questa promozione, l'autore di questo storico risultato, ovvero Marco Baroni, intesa trovata tra la dirigenza giallorossa e il mister che siglerà un contratto biennale a cifre importanti. Nell'accordo è stata inserita anche una clausola che prevede un bonus in caso di esonero. Di queste ore, un incontro fiume con il presidente Vigorito, proseguito poi anche a cena. Ma alla fine si è arrivati al sì definitivo, no dunque al Bari e al Palermo. Il futuro di Marco Baroni sarà ancora a Benevento, pronta per lui un'altra sfida, chiamata Serie A. Ed era questo l'ultimo servizio. Vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione. A voi tutti un buon proseguimento. Arrivederci. Previsioni per mercoledì 14 giugno 2017. Prosegue il dominio di Giuda, l'alta pressione che da qualche giorno ormai porta sole e caldo sul nostro paese e sarà così anche in questa giornata, tuttavia con un veloce peggioramento sui settori alpini. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino isolati rovesci e temporali sul Triveneto, specie sui rilievi, ma in locale sconfinamento anche alle medio-alte pianure. Soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio occasionali temporali su Alpi e Prealpi, ma migliora entro sera-notte. Spostiamoci al centro. Qui avremo una bellissima giornata soleggiata ovunque, cielo del tutto sereno e limpido. Al sud situazione immutata, splendida giornata, con tanto sole e cielo sereno sulle regioni peninsulari e anche sulla Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli da direzioni variabili su tutti i bacini. Temperature sempre calde, minime comprese tra i 15 e i 21 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo punte di 35 gradi sia al nord che al centro e pure al sud.